Come aggiungere la schermata prodotto Il primo step per creare il tuo negozio online è quello di aggiungere nella tua area di lavoro la schermata prodotti. Per aggiungere la schermata prodotti, clicca a sinistra sulla barra degli elementi. Clicca su e-commerce, vai su elenco e trascina la schermata dei prodotti. Per modificare la visualizzazione della schermata prodotti, clicca sul componente con il tasto sinistro del mouse. Clicca su modifica schermata. Cliccando su gestione e-commerce puoi iniziare a configurare il tuo e-commerce. Clicca sull'icona matita per modificare le impostazioni d'anteprima. Cambiare il numero di prodotti per riga. Mostrare tutti i prodotti a scorrimento. Modificare il margine fra le anteprime. Modificare le righe del testo in anteprima. Modificare il numero di anteprime per pagina. Clicca sull'icona immagini per modificare le impostazioni delle immagini. Puoi modificare l'altezza delle immagini in anteprima. Cambiare la dimensione delle immagini in anteprima, ritagliandola o adattandola in base all'immagine di anteprima. Clicca sull'icona colori per modificare i colori della schermata prodotto. Puoi cambiare lo sfondo delle anteprime. Applicare l'arrotondamento a tutto il box o solo alle immagini. Applicare l'ombra a tutto il box o solo alle immagini. Clicca sull'icona testo per modificare lo stile dei testi. Puoi modificare il carattere, la dimensione, il colore e l'allineamento del titolo del prodotto. Modificare il carattere, la dimensione, il colore e l'allineamento dei prezzi. Modificare il carattere, la dimensione, il colore, lo sfondo dei pulsanti. Dalle impostazioni avanzate puoi decidere se mostrare in quale posizione mostrarla la ricerca dei prodotti. Puoi cambiare l'ordine dei prodotti per ordine alfabetico, prezzo, data di inserimento, codice, quantità. Puoi impostare la modalità rendendo possibile l'acquisto, la sola prenotazione o disattivando acquisto e prenotazione. Puoi decidere se mostrare i prodotti con IVA. Puoi aggiungere lo zoom nella scheda prodotto. Clicca su Mostra elementi per Mostrare o meno l'etichetta, il pulsante visualizza, la quantità disponibile, il numero di articoli nel carrello, le icone social nella scheda prodotto. Clicca su Animazioni anteprime per selezionare un'animazione al passaggio del mouse. Clicca su Filtra categoria per aggiungere una spunta sulle categorie che vuoi che vengano visualizzate. Clicca su Visualizzazione prodotto per visualizzare il prodotto in una pop-up e cambiare le impostazioni immagini nella pop-up, oppure per visualizzare il prodotto in una pagina, scegliendo dal menu a tendina la pagina di destinazione. Ricordati che all'interno della pagina di destinazione devi inserire il componente scheda prodotto.